Il salotto storico di Mesagne, piazza Orsini del Balzo, al centro dell'intervento di Mesagne, interesse comunitario, al centro di un movimento di opinione partito dal web, sul social network Facebook e che nel giro di pochissimo tempo ha coinvolto cittadini, associazioni, esponenti politici. Obiettivo sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della salvaguardia dell'antico centro storico, in particolare della piazza barocca, teatro di una serie di manifestazioni tanto in estate quanto in inverno. Tutti contro il parcheggio selvaggio, la sporcizia, lo scarso interesse per i beni culturali. Con il piazza Orsini Day, le associazioni promotrici Terra di Mesagne e Promocultura hanno voluto organizzare una sorta di festa per tornare però a parlare della vicenda che vede questo paziosissimo lasciato nell'angolo della superficialità. Da qualche anno il centro storico è caduto in disgrazia, adesso abbiamo voluto portare una fotografia dello stato attuale ai candidati sindaci di Mesagne per fargli vedere, per fargli notare l'attuale degrado e le attuali problematiche del centro storico, per cercare di riportare in auge l'antico centro. Stiamo affrontando Mesagne un periodo certamente non piacere, diversi disagi per quanto riguarda i nostri monumenti, la nostra cultura in genere, non di Promocultura Terra di Mesagne ma soprattutto le tantissime associazioni che hanno aderito e vogliono stimolare la città a cercare di intraprendere un discorso diverso, che possa vedere il bene culturale, la cultura, il bene storico monumentale al centro dell'attenzione e pensando a un nuovo modello di sviluppo che si possa basare anche sul bene culturale e affinché Mesagne possa rinascere dalla sua stessa cultura. Sottoscritto anche un documento nel quale i cittadini e le associazioni si impegnano a salvaguardare il centro storico cruciale non solo sotto il profilo turistico ma anche culturale e artistico, una sorta di rete attraverso la quale raccogliere opinioni, proposte, esigenze e progetti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.